Tiene banco soprattutto il mercato in casa Modena, con il DS Vaira al lavoro per concludere le ultime trattative, sia in entrata che in uscita, poche ore al gong finale, previsto domani alle ore 20. Tutto dipenderà da Paolo Azti, il cui trasferimento allo Spezia sembrava ormai ai dettagli i liguri prima di affondare il colpo per il brasiliano. Dovranno però cedere la partenza del classe 94, non è più così scontata tra oggi e domani, in ogni caso si deciderà il futuro di Azti, in caso di sua partenza il Modena punterà con decisione su Giuseppe Sibilli, attaccante del Pisa, con Marras del Bari come alternativa, in caso di incredibile permanenza all'ombra della ghirlandina di Azti, si opterà per un profilo più giovane per rinforzare il reparto offensivo, in Lizza c'è soprattutto Salcedo dell'Inter, da Azti dipenderà anche il futuro di Guiebre, finito nel mirino di alcune big della Serie C, tra cui Reggiana, Cesene e Virtus Entella. In uscita invece Abiuso appare diretto alla Pergolettese in prestito, mentre è ufficiale la cessione di Marotta alla Viterbese. Infine, Duca piace a Novara, Gubbio e Siena, così come Rabiu, interessa ad Alessandria e ai Maltesi del Floriana, ultime ore di mercato, poi finalmente si potrà pensare solo ed esclusivamente al campo e al calcio giocato, a tal proposito la squadra di Atilio Tesser prosegue allo Zelocchi. Gli allenamenti in vista della trasferta di Cagliari in programma venerdì sera alle 20.30, Out quasi sicuramente capitano per Greffi, da valutare Coppolaro assente sabato scorso contro la Ternana.